Le fiamme sarebbero state causate da lavori di messa in opera di una guaina di catrame sul tetto del capannone. È tra le ipotesi che hanno determinato l'incendio sviluppatosi all'interno della Edil Press di Cicerale, un'industria che produce componentistica plastica per auto ed elettrodomestici. Il capannone industriale di circa 10.000 m2 è andato completamente distrutto con danni che superano alcuni milioni di euro. L'incendio si è sviluppato intorno alle 9 di questa mattina, quando gli operai erano impegnati all'interno dello stabilimento che sorge nell'area industriale del comune di Cicerale, non molto distante dal territorio di Agropoli. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco, giunte anche da Salerno. Nella zona sono state fatte confluire anche diverse autoambulanze per prestare i primi soccorsi ad alcuni operai rimasti lievemente ustionati. Le loro condizioni non destano preoccupazione, i lavoratori sono stati medicati sul posto e non è stato neppure necessario il loro ricovero nei nosocomi della zona. Disposta anche l'evacuazione di una scuola elementare di Agropoli che sorge proprio al confine con la zona industriale di Cicerale e del comune di Giungano. L'evacuazione si è resa necessaria per la presenza nell'area di una grossa nube nera sprigionata subito dopo il rogo. Le fiamme hanno coinvolto l'intera struttura, sul posto anche i sindaci di Cicerale e di Agropoli. Ascoltiamo proprio Franco Alfieri, primo cittadino di Agropoli che esprime gravi preoccupazioni sul futuro occupazionale dei lavoratori. E' un incendio di per sé un danno al patrimonio però colpisce un'attività produttiva già in difficoltà perché pochi giorni fa ha licenziato 25 persone quindi davvero i disastri si susseguono quindi un colpo duro all'azienda e ovviamente i lavoratori.